Buongiorno a tutti, ripeto il successo che stanno avendo le nostre lezioni chiacchierate online, questa è la terza di Van Gogh, vi posso garantire però signori che si potevano fare ben più di tre, perché questo gigante della pittura lo vedremo assieme, a parte che ha fatto più di mille dipinti e poi disegni, quindi qualche dipinto non lo posso far vedere, iniziamo, lui a Parigi gli sta stretta ormai, questo è l'ultimo autoritratto che si fa quando è a Parigi e quindi abbiamo visto che è stato puntinista, è stato impressionista, è stato giapponesista, è stato un po' tutto, ma è stato soprattutto Van Gogh. Il 19 febbraio del 1888 assieme al fratello Theo va alla Gare du Rion e parte per Arla, eccolo qui, quindi siamo giù nel sud della Francia, quello che lui definirà il Giappone della Francia, cioè la luce del sole e quindi lui va giù nel sud della Francia per poter dipingere, però quando arriva, siamo il 19 febbraio, parte il mattino, arriva il giorno dopo, siamo e nevica, nevica, vediamo sullo sfondo Arla e i campi di neve, quindi lui si aspettava il sole, si aspettava il sole ancora, vedete, quindi lui ha talmente una voglia di dipingere che dipinge la terra della Provenza con la neve, affascinante, affascinantissima, eccolo qui, però abbiamo già parlato della grande cultura di Van Gogh, l'ho già detto, lo considero a livello Michelangelo, Leonardo da Vinci in Mantegna per la sua cultura, quindi siamo nella zona di Tartarin di Tarascona, legge questo libro, ma poi legge ancora Zola e poi legge Mopassin, vedete, legge questo libro perché c'è un richiamo al Cantico dei Cantici di San Francesco, quindi vedete la cultura del nostro, le prime cose che dipinge è proprio il ponte dell'Anglois, lui le chiama l'Anglois perché il proprietario, il proprietario o il fittavolo si chiamava l'Anglois, in verità si chiama Ponte della Reginelle, però quando è a Darla gli arriva la brutta notizia che Anton Mauve è morto, se lo ricordiamo nella prima parte Anton Mauve è stato il suo maestro, quello che ha spiegato le tecniche della plasticità e della prospettiva, pittore olandese, quindi Mauve, andiamo, quindi dipinge subito gli Iris, anche qui un richiamo teologico perché i li richiamano la Trinità, vedete, e pensate che lui girava, purtroppo questo dipinto è stato distrutto nella seconda guerra mondiale in Germania perché i dipinti di Van Gogh, ma questo è stato bruciato, i dipinti di Van Gogh erano considerati arte deviata, vedete, e lui sarà costruito come un novello Filippo Brunelleschi, sappiamo benissimo la prospettiva che Brunelleschi crea da Santa Maria del Fiore guardando il battistero del bel San Giovanni, si crea questo specie di apparecchio, io sorrido, ma sorrido per la stima che ho per questo grande pittore, anche questo si costruisce per la prospettiva, quindi i suoi dipinti hanno un senso prospettico e lo vedremo dopo con il caffè della gara, e questa è la Cro, vedete, oggi la Cro è così, vedete, lui la dipinge, quindi i campi di grano, proprio la voglia di dipingere la natura, il suo giallo, anche il giallo è un colore molto importante, anche sotto il profilo teologico perché il giallo è come i mosaici bizantini, il giallo richiama l'imperio, richiama il mondo dei dèi, richiama l'altissimo, vedete, eccolo qui, e sullo sfondo vediamo l'abbazia dei Montmesur e con le Alpil, queste montagne, alte 400 metri, quindi montagne e colline, dove la montagna più alta è 400 metri ed è la montagna Il Gossier, quindi non solo, se noi, tutti i punti di fuga che Van Gogh fa in questo dipinto nella pianura della Cro, ce n'è uno solo ed è il centro della ruota del carretto che noi vediamo, vedete, andiamo avanti, quindi il 30 maggio va a Saint-Marie-de-la-Mer, quindi va proprio sul mare, va proprio sul Mediterraneo, vedete, e rimane fino a giugno, fino al 3 di giugno, quindi rimane 4-5 giorni, guardate questo dipinto, veramente, in cui lui, pensate che, come ho detto l'altra volta, è molto difficile restaurare un Van Gogh, cosa si fa? Si fa un rigatino di colore? No, si possono restaurare solo con il silicone, cioè tenendo il pezzo di colore staccato e mettendo il silicone sotto e questa è una cosa anche molto importante perché i dipinti di Van Gogh non si possono assolutamente copiare, i falsari qui non fanno strada, perché? Perché lui usava, sulla tela ci sono milioni di dipimenti perché non puliva mai il pennello e qui senz'altro avrà lavorato non solo col pennello ma anche con la spatola, la spatola ti permette di dipingere sempre mescolando i colori, sempre sulla tela, dipinge le case di Saint-Marie-de-la-Mer, i covoni, vedete, e il seminatore, anche qui c'è un richiamo alla redenzione, c'è un richiamo alla redenzione, guardate, il cielo è il campo di grano, è il campo da seminare, il campo di grano lo vediamo da dietro, anche perché non ha senso avere un campo di grano e avere un seminatore, quindi il cielo è il il campo che si sta seminando e il cielo è il campo di grano, è la terra gialla, quindi è una redenzione a cui Van Gogh fa riferimento. Ad Arles trovo un grande amico, il postino Roland, il quale non è un postino che va casa per casa a portare la posta, ma è nella stazione ferroviaria, è lui che smista la posta, se voi considerate che lui manda quasi tutti i giorni una lettera a Teo, quindi si sono conosciuti benissimo, ma soprattutto il postino Roland, il postino Roland vuole un sacco di bene a Van Gogh, mi sembra quasi che sostituisca il padre, vedete, e lui dipinge, vediamo la Bershorge, vediamo alta a sinistra che è la moglie di Roland, dipinge il penanato, il bambino penanato Marcel, la bambina penanata Marcel, poi Armand e poi Camille che è un ragazzo, lo vediamo vestito della festa e qui invece vediamo Camille che sta andando a scuola e la sua famiglia, lui si affeziona a questa meravigliosa famiglia del postino Roland, poi gira per Arles e va in questo giardino chiamato giardino dei poeti, bene lui immagina nella sua grande cultura che Dante, Boccaccio, che Dante, Petrarte e Boccaccio si trovino qui nel giardino dei poeti a parlare ognuno delle sue meravigliose opere che lui conosceva benissimo e in effetti è impossibile per la semplice ragione, quando Dante muore nel 1321 Boccaccio ha 8 anni e Petrarte ne ha 16 quindi non si conoscono, però a lui gli accomuna ed è una prefigurazione dell'arrivo di Gauguin in cui con Gauguin ci sarà un dialogo e questa è la notte stellata sul Rodano, guardate che Van Gogh dipinse il quadro il 26 o il 27 settembre del 1888, attorno alle 10.30 come si vede la posizione delle stelle, per Boccaccio come si fa? Quindi lui è molto preciso, l'orsa maggiore che vediamo qui in questo disegno, lui dipinge l'orsa maggiore che è proprio lì al centro, vedete proprio lì al centro, l'orsa maggiore attorno alle 10.30 e un giorno compreso tra il 20 e il 30 settembre, quindi conosceva anche le stelle, è stato studiato, vediamo quindi l'orsa maggiore e vediamo le tre stelle che ci sono, sono in fondo, sono considerati tre cacciatori che inseguono l'orsa, quindi conosceva un po' tutto, lo vediamo ma lo vedremo più compiutamente avanti, eccolo qui, vediamo questo meraviglioso, questa esplosione di colori, lui alle 10.30 di quella sera lì girava, girava per Arl e ha questa ispirazione, lo vedete, andiamo avanti, eccolo qui, quindi i girasoli, i girasoli anche questi hanno un richiamo del sole perché girano guardando il sole e quindi un richiamo all'eterno e la casa gialla, vediamo che lui arriva nel maggio, era già stato da un altro ma aveva litigato perché questa persona non era simpaticissima, voleva ulteriori soldi per il deposito dei dipinti, quindi dal maggio dell'88 fino all'aprile dell'89 vive qui alla casa gialla, vedete, quindi dipinge l'alcazar di Arl e qui il famoso caffè di notte e c'è un punto di fuga, vedete, il punto di fuga è proprio quell'incrocio che noi vediamo e lui è ospite della Madame Genoux, questa gentilissima signora che prende a volere bene al nostro Vincent e e questo è il caffè di notte, diceva che frequentare i bar è un danno sotto tutti gli aspetti, un danno fisico perché si beve e un danno morale perché gli avventori secondo Van Gogh non avevano nessuna cultura oppure parlavano di cose banali, quindi al bar si muore, diceva il nostro Van Gogh e guardate anche qui lui crea tutte quelle prospettive, tutte quelle prospettive che sono una persona che ha studiato come Van Gogh, abbiamo visto che lui aveva fatto l'accademia a Bruxelles, l'accademia ad Anversa e soprattutto guardate sulla sinistra in alto i punti di luce che lui adopera per creare questo dipinto, ma anche sotto noi vediamo che crea la solitudine, quello che vediamo al centro in piedi naturalmente è il signor Ravu, vedete, eccolo qui, quindi il suo letto, il suo letto in cui il punto di fuga è dove avevo messo la freccia e però veramente sembra come ci fosse stata qualcosa che ha mosso la camera del nostro Van Gogh, perché se noi la guardiamo dovrebbe essere così, se noi la stabilizziamo dovrebbe, è così, eccolo qui, vedete, quindi sembra proprio in movimento, in azione e che dipinti ha sopra il letto, ha un dipinto di Bosch, che è il fratello di quella signora che comprerà l'unico dipinto di Van Gogh e poi lo suavo Millet, li ha sopra il letto, vedete, quindi il seminatore, guardando ancora al grande Millet, quella sfera del sole che vediamo là dietro, il 23 ottobre del 1888 arriva Gauguin, arriva da Pontavain della Bretagna e arriva perché il fratello lo paga, lo paga perché vuole, Vincent, creare ad Arles un gruppo, una scuola, una scuola di pittura, quindi Gauguin è simbolista, ma lo vedremo, si scontrerà moltissimo con Van Gogh, faranno diversi dipinti assieme, quindi il 23 ottobre, però c'è un confronto, scontro, non si trovano d'accordo su niente, a Gauguin piace Raffaello, a Van Gogh non piace Raffaello, a Gauguin piace un pittore, all'altro non piace, in casa Van Gogh è disordinato, veramente disordinato, Gauguin è ordinatissimo, ma lo scontro è proprio sulla visione dell'arte, vede che gli fa il volto di una scimmia per la semplice ragione che lui dice come le scimmie scimmiotano gli uomini, tu scimmioti la natura, quindi il tour non deve essere una verità sulla natura, ma deve essere un sogno, un momento onirico, quindi vediamo appunto che Gauguin dipinge Van Gogh mentre sta dipingendo i girassoli, e qui c'è uno scontro, vanno Montpellier a vedere dei dipinti di Delarcois, vedete, e il nostro è di Courbet, lo vediamo sulla destra, Courbet, e anche qui si scontrano, anzi litigano, litigano andando e tornando in treno, due caratteri, due caratteracci, e qui inizia la rottura, la rottura che avviene il 23 dicembre del 1888 quando Van Gogh si taglia un pezzo di orecchio e viene ricoverato all'ospedale di Arles e il giornale del luogo scrive proprio cosa è successo al pittore Vincent Van Gogh, va all'ospedale di Arles e il dottor Reilly lo cura, lo cura veramente amorevolmente il nostro Vincent, questo è l'interno, quindi dipinge subito, lui non sta mai fermo, lui dipinge sempre, lui dipinge tra disegni e dipinti ne ha fatti duemila, più di duemila, ma quelli che sono oggi riconoscibili, non riconoscibili, sì riconoscibili, ma pensate che la mamma una volta in un trasloco distrugge quasi 100 dipinti di Vincent, distrugge perché e poi ad Arles tanti dipinti di Van Gogh, gli abitanti di Arles li adoperano per tappare le finestre che non hanno i vetri, e perché dipinge così tanto, prima di tutto perché è Van Gogh e poi perché la pittura era un antibiotico, come una persona che ha dei problemi in qualche parte del corpo prende delle medicine, la sua medicina era il dipingere, vedete l'interno dell'ospedale di Arles, 7 gennaio del 89 naturalmente ritorna alla Casa Gialla, però c'è una petizione a marzo che oltre 90 abitanti del paese di Arles vanno dal sindaco e fanno una petizione per allontanare questo considerato pazzo, ma interviene Roulin e il marito della signora Chinou, i quali non si arriva al numero per poterlo allontanare. Il 17 aprile si sposa Teo, sposa Jo, questa bellissima signora, sposa Jo, Jo Bonser, eccolo qui, vedete, quindi è una scelta personale, dall'ospedale di Arles va a Saint-Paul-de-Moussole, quindi a Saint-Rémy, viene ricoverato proprio per sua volontà e rimarrà dal maggio dell'89 al maggio del 90 e da questo lato dove aveva fatto la freccia è Arles, le montagne sono l'Alpil e quello che è cerchiato è l'ospedale di Saint-Rémy, de Saint-Paul-de-Moussole, vedete, eccolo lì, quindi da Arles va a Saint-Rémy, vicinissimo, vicinissimo. Vediamo due frecce, la prima è la camera da letto che Van Gogh aveva giù, ma Teo gli paga due camere, una sulla torretta a mezza altezza e un'altra qui, vediamo questa camera, ecco questa è la camera di Van Gogh naturalmente per i turisti oggi e per curarlo c'era l'idroterapia, non c'era altro, o lo legavano a testa in giù o altre cose che si facevano in queste case di cura, chiamiamole case di cura, nell'Ottocento, vedete, quindi dalla camera bassa che ha giù dipinge il giardino di Saint-Paul-de-Moussole e poi dipinge questo dipinto, è stato forse uno dei primi che il nostro Van Gogh dipinge, vedete il temporale, la tempesta si è appena abbattuta sul campo di grano, vediamo l'Alpil e vediamo il temporale che si allontana, si allontana verso il chiaro che noi vediamo, si allontana e il chiaro che noi vediamo significa che il temporale sta andando verso Marsiglia, sta andando verso Marsiglia. E anche qui vediamo in questo dipinto Van Gogh sembra quasi guardare a Goghè, la stagione è finita, vediamo i covoni, vediamo che il grano è stato tagliato e sullo sfondo non è il sole ma è una luna infuocata, quindi è quasi un sogno, è quasi un arrivo a capire o un onore a Goghè. Eccolo qui, ecco una cosa molto importante, spesso viene accreditato al grande Claude Monet l'arte di dipingere a tutte le ore del giorno, sappiamo benissimo che lui ha dipinto i covoni tutte le ore del giorno, la cattedrale di Rouen e la basilica di San Giorgio Maggiore a Venezia. Il primo signori è stato Van Gogh a dipingere a quasi tutte le ore del giorno e Monet lo sapeva benissimo e Monet amava moltissimo Van Gogh. Quindi è da questo lato, abbiamo visto le alpil dall'altro lato e vediamo le alpil da questo lato e quindi dipinge, dipinge, vediamo quello che non voleva assolutamente mai dipingere, gli ulivi, non voleva vedere come si muovono questi, sembrano proprio percorsi dal vento ed è la prima volta che lui li dipinge. Vedete, dipinge questo gruppo di Lillà e poi ancora gli Iris. Manda, si sta aprendo a Parigi il Salone dell'Independence dove i pittori possono esporre le proprie opere e manda questi due dipinti a Teo e Teo li risponde con questa lettera che i suoi dipinti sono stati apprezzatissimi, quindi manda la notte sul Rodano e gli Iris. E questo è veramente un dipinto fra i più famosi. Vedete, vediamo questo pino che sembra un obelisco, lo sfondo, la città di Saint-Rémy de Mausole, ma guardiamolo bene, entriamo in questo dipinto. Innanzitutto, lo vediamo, lui dipingeva di notte, si metteva il cappello così e con le candele e dipingeva, non si fermava mai. Eccolo qui, vedete, guardiamo. Lui dice in questa lettera spedita a Teo, questa mattina dalla mia finestra ho guardato a lungo la campagna prima del sorge del sole e c'era solo la stella del mattino che sembrava molto grande, chiamata stella del mattino già degli antichi greci e dai romani. Vedete, quindi venere a fine maggio e primi di giugno del 1889 era il massimo della sua luminosità. e Van Gogh ritrae la luna, vediamo in alto a destra, e la stella del mattino. Il seminatore guardando ancora Millet e nella clinica c'è un infermiere che gli permette di uscire, li vuole bene, lui dipinge, si chiama Trebuc e sostituisse Roulet che nel frattempo, Roulet, siccome era nato un altro figlio, aveva bisogno di un stipendio maggiore, va a Marsiglia, viene preso come postino a Marsiglia e naturalmente lo stipendio lì viene aumentato. Quindi i suoi padri, vedete Le Pertanguì e Roulet. Andiamo avanti, ecco sempre un richiamo, vediamo qui il buon samaritano e la pietà, la pietà, lui guarda De La Croix, due pittori lui assolutamente ha sempre guardato, De La Croix e Millet. E vediamo che lui ha il volto, il volto di Cristo, il volto di Cristo e il volto, è un altro ritratto di Van Gogh. La raccolta delle olive, siamo avanti con la stagione, vedete, e anche qui vedete la risurrezione di Lazaro, sullo sfondo, in questa risurrezione di Lazaro manca Gesù, ma perché Gesù è il sole, per Van Gogh Gesù è il sole. Andiamo avanti che qui c'è un richiamo alle Sacre Scritture e a Millet. il 31 gennaio del 1890, il nostro Joe ha il bambino, gli metterà nome Vincent William, lo stesso, i due nomi dello zio Vincent. Gli regala questo bellissimo dipinto al bambino e vediamo il dottor Gachet, cosa succede? Che da Saint-Rémy-de-Provence, quindi dal casa di cura del Saint-Paul-de-Mosol, lui si sposta, va a Dover-sur-Oise, vicino a Parigi, e il dottor Gachet sarà il suo medico, qui vediamo la figlia del dottor Gachet, alloggia qui dalla famiglia Ravoux. Vedete, sulla sinistra il proprietario e al centro Madeleine Ravoux, la figlia del proprietario. Alloggia in questa stanza, dipinge il giardino del dottor Gachet, dipinge alcuni aspetti della città di Auvers-sur-Oise, dipinge la chiesa, questa chiesa gotica, ma è sproporzionata rispetto alla contadina. La contadina richiama, vedete è vestita come un onandese, richiama la sua fanciullezza, richiama la sua fanciullezza. Pensate che io l'ho visto anni fa, me lo ricordo ancora, penso 30 anni fa a Palazzo Grassi a Venezia. La carrozza sembra spruzzare il colore fuori dalla tela. Ecco, vedete la grandezza di Van Gogh è dipingere le cose semplici, una carrozza, un campo di grano, un bambino, vedete i girassoli, ma è poi di caricare con la sua tensione emotiva e di colore tutta l'opera. Andiamo avanti, il 6 luglio va a Parigi, siamo il 6 luglio, va a Parigi e va da Teo naturalmente, trova Toulouse-Dutrecq e trova anche il giornalista Aurier, il quale è l'unico che gli fa i grandi complimenti, dice questo pittore dalle mani d'oro, è stato probabilmente un grande complimento per il nostro Van Gogh. Però ci sono dei problemi. Sappiamo benissimo che la ditta Goupil, non si chiamava più Goupil, ma Valadon. Il nostro Teo vuole emanciparsi, vuole, si direbbe oggi, mettersi in conto proprio. E di questo Vincent è preoccupato. Ne parla alla cognata Jo, anche perché la cognata Jo non sta bene, il bambino non sta bene. Teo ha dei problemi di lavoro, quindi quel mensile che arrivava a Vincent, quel mensile lì viene a mancare. Viene a mancare, quindi lui si fa veramente un viaggio per conto proprio, capite? Eccolo qui, quindi va, ritorna a Dover-sur-Wars e dipinge questo cielo tempestoso. Poi dipinge il giardino di Dubigny, in questi due aspetti, vedete? E manda una lettera però alla mamma e alla sorella Will, gli dice sto bene, cara mamma sto bene, il papà sappiamo benissimo che era morto nel 1885, in marzo mi sembra il 1885, la mamma se ne andrà, pensate, quasi vent'anni dopo il figlio Vincent. E quindi gli dice di star bene, che non ha problemi, che sta lavorando, eccetera. Dipinge, siamo il 14 luglio del 1890 e dipinge una ricorrenza annuale della presa della Bastiglia, quindi il 14 luglio, lui dipinge il municipio. E in questa lettera, veramente strana, perché di lì a poco lui tenterà, ma no, lui si ucciderà, poi verrà fuori che sono stati due fratelli a ucciderlo, verrà fuori che è stato ucciso nei campi, sono tutte cose che aspetta agli storici, una volta e anche ai futuri storici, a vedere se è vero o non è vero. Ma il 23 luglio del 1890 lui manda una lettera, lui manda una lettera e gli dice che ha bisogno di tele e di colori, perché sta lavorando con un pittore che si chiama Orching, che qui aveva 23 anni, quando era a Oversoluaise, qui lo vediamo su destra, un po' più anziano, dice che ha bisogno di colori e di tele, anche per il suo amico. Quindi si fa fatica a capire quello che succederà il 27 luglio. Perché manda che questa lettera, questo campo di grano, guardate che meraviglia, in cui lui unisce due tele completamente quadrate, lavora con la spatola, proprio perché può nella tela poter mescolare i colori, ma se noi guardiamo bene il campo di grano, quelle spighe lì sembrano degli aculei, vedete, noi non possiamo entrare perché rischiamo di ferirci all'interno e quelli tre sentieri lì non portano a nessuna parte. Vedete che c'è solo uno che va proprio a cozzare contro il giallo, quello a destra e quello a sinistra. Vedete, i corvi stanno venendo o se ne stanno andando. E questo è importante perché lui per la prima volta adopera il nero, una delle rarissime volte che adopera il nero. Ma se noi uniamo, lui lavorava con colori complementari, ma se noi uniamo i colori primari, il giallo, il blu e il rosso, e li mescoliamo, nasce il colore nero. Qui non ha bisogno di avere un tubetto di colore nero. Vedete, ma lo riguardiamo questo dipinto perché veramente ci fa soffrire di claustrofobia. E qui, in questo dipinto che noi ci sentiamo tutti dei psicologi nei confronti di Vincent, lo vedete, eccolo qui. Guardate, questo campo di grano, questo sole che illumina il campo di grano, ma non c'è questi corvi che hanno un richiamo della morte o altri richiami. E lo sapeva soltanto lui perché questo è uno dei dipinti più studiati. Ci saranno almeno centinaia e centinaia di versioni da tutti grandi critici d'arte ed esperti d'arte. Vedete, eccolo qui. È veramente una meraviglia questo dipinto. E questo non si sa quale sia l'ultimo dipinto di Van Gogh. Tanti dicono il campo di grano quei corvi, tanti dicono questo. E lo vediamo, vedete qui la stagione se n'è andata. Il grano è stato tagliato. Ci sono quei covoni, che non è un covone di fieno, signori. È un covone proprio di grano. E in quei mesi lì, a Dover, su Was, pioveva tutti i santi giorni e tutte le santi notte. Quindi vedete che lui crea con quell'azzurro il contrasto tra il giallo e l'azzurro. È veramente importante sotto il profilo filosofico. Ed è una, sembra una possangara, una possangara enorme. Quello che vediamo sotto davanti a noi non è erba tagliata. Ma è semplicemente del grano che è rimasto ancora nel campo. Anche perché la trebbiatura non avveniva sul campo, ma avveniva nella fattoria che la vediamo nella sinistra. E sulla destra noi vediamo le mura del cimitero di Over sul Was, che si trovava in mezzo ai campi di grano. Quindi vediamo ancora i corvi. Ripeto, non si sa se è l'ultimo o eccetera, ma andiamo avanti. Il 29 luglio, il nostro Van Gogh, che si era sparato proprio in mezzo ai campi di grano il 27 luglio, e il 29 luglio, assistito dal dottor Gachet e dal fratello Teo, alle prime luci dell'alba, Van Gogh, Vincent, muore. Andiamo avanti. I funerali vengono fatti, si può dire, alla trattoria Ravoux, per la semplice ragione che il sacerdote, essendosi suicidato, non gli consente che avvengano i suoi funerali all'interno della chiesa. Al funerale arriva Bernard, l'amico, vi ricordate, di Asniore, quando lui andava a dipingere lungo la senda, il nostro Pisarò, il figlio del famoso Pisarò, questo è Luciano, Lucien Pisarò, e Leper Tanguy, quel famoso amico di Parigi. Eccolo qui. Ma pensate, signori, una cosa molto importante. In poco meno, qualche 3-4 mesi, meno di 5 anni, guardate il camminare artistico di Van Gogh. Da i nostri mangiatori di patate, lui, come abbiamo detto, ha fatto tutti i percorsi, dal simbolismo al puntinismo, guardate in 5 anni. Beh, io credo, ed è una, mi prendo tutte le responsabilità, che nessun pittore nella storia dell'arte ha fatto un cammino così lungo, in uno spazio così breve. E guardate, è una prospettiva molto triste, una lettera a Teo. Quella di sapere che forse la pittura che faccio non avrà mai nessun valore. Veramente triste questa lettera. Vedete, riuscirà a vendere solo la vigna rossa alla sorella di Bosch, che era un poeta, che abbiamo visto prima, le venderà per 400 franchi. 400 franchi oggi sono poco meno di 2.000 euro. Pensate che la sua pistola è stata venduta per 187.000 euro. Quindi quasi 400 milioni delle vecchie liere. Tutto quello che ha toccato Van Gogh, anche nel male, è diventato ricchezza. Vedete, se voi pensate che... Ci rastristiamo a leggere qui. Se voi pensate che il valore dei dipinti di Van Gogh... Immaginate solo che il dipinto Mangiatore di Patate può avere un valore enorme, 4, 5, 600, 700 milioni. Bene, si possono comprare 200.000 appartamenti da un milione all'uno. Questo che una delle ragioni si pensa che si sia suicidato era proprio per i soldi che il fratello Theo non poteva più dargli. Vedete, eccolo qui. Oggi riposa nel cimitero di Auvers-sur-Oise il nostro Van Gogh e vedete, è stato seppellito sotto un campo di grano. Vi ringrazio, vi ricordo e lunedì prossimo avremo una lezione bellissima di Alfredo Magnani il quale ne farà tre proprio su Legnago, sullo sport di Legnago che lui ha filmato. Martedì 9 avremo Federico Zuliani che parlerà del dramma delle foibe e mercoledì 10 ci ritroveremo e cercherò di portarvi a spasso per Venezia cercando i dipinti di Tintoretto. Grazie mille.